Ma noi ci troviamo in un momento molto importante e delicato per le nostre aziende, Napoli Servizi, Asia, ANM su cui stiamo tanto lavorando anche in questi giorni e ABC, quale abbiamo voluto dire in modo chiaro a tutti, al management, alla governance, ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati. Noi dobbiamo raggiungere tre obiettivi, consolidamento delle aziende pubbliche sulle quali abbiamo puntato in questi anni e le vogliamo rendere sempre più forti, salvaguardia dei diritti e della dignità dei lavoratori e miglioramento della qualità dei servizi. Per fare tutto questo ci vuole un clima di confronto, di armonia, di rispetto reciproco e visto che stiamo per lanciare una sfida importantissima per raggiungere questi tre obiettivi, l'amministrazione comunale ha deciso di essere più presente per aiutare il dialogo, per rafforzare le aziende senza misurarsi in prove muscolari che non servono a nessuno. Quindi credo che i confronti stanno andando molto bene, molto bene Asia, molto bene Napoli Servizi, contiamo di chiudere anche il confronto molto bene con ANM così come abbiamo fatto anche in ABC e mi par di capire se stanno creando le condizioni per un dialogo importante. Come ho sempre detto a tutti ci vuole competenza, ci vuole impegno, ci vuole lavoro ma ci vuole anche propensione al dialogo e capacità di tessere oltre che relazioni istituzionali e politiche anche relazioni umane e mi pare che si sta facendo un buon lavoro.